Ragazzoni miei salve a tutti, benvenuti e soprattutto ben ritrovati qui sul canale, qui su The Zion Theory, io sono ovviamente spazio, immancabile l'appuntamento di inizio mese con le serie tv in uscita nel corso del mese, in questo caso ovviamente ottobre, qualche giorno di ritardo se vogliamo, ma di materiale di cui parlare in queste settimane ce n'è stato veramente tanto, ma non così in ritardo, perché tutte le serie che andrò ad elencarvi in questo mese ancora devono uscire. Per cui diciamo che ho fatto in tempo da questo punto di vista. Altra cosa importante da ricordare per coloro i quali vedono per la prima volta questo genere di video è che in questo format vado a descrivere e alencare 5 novità assolute, cioè 5 produzioni, 5 serie al debutto, quindi non vado a mettere nell'elenco delle serie con già diverse stagioni alle spalle, quindi parliamo di novità assolute. Importante ricordare allo stesso tempo che è bene iscriversi al canale, insomma, quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi, un piccolo gesto che però può risultare di grande importanza per la crescita del canale. Altra cosa importante è quella di lasciare un like, qualora il contenuto possa essere di vostro gradimento, potete anche seguirmi sui social, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. In particolar modo vi invito a seguirmi su Instagram che è il social che utilizzo un po' di più, dove carico storie, reel e quant'altro e mi raccomando attivate anche la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che porto qui sul canale. Fate tutte le premesse noiose, tediose come di consueto, addentriamoci, andiamo a vedere effettivamente quali sono queste 5 serie in uscita nel mese di ottobre e alle quali vi consiglio comunque di dare un'occhiata. Miei cari iniziamo con il 7 settembre perché su Netflix abbiamo il debutto di The Midnight Club, una serie realizzata da Mike Flanagan che ha già portato su Netflix delle serie horror, perché di horror paranormale si tratta anche in questo caso, delle serie horror quali Midnight Mass e I Laos, quindi sicuramente fra le produzioni più interessanti del panorama Netflix. Una serie che è tratta dai romanzi di Christopher Pike e che ci parla di una struttura per giovani malati terminali, in questa struttura otto pazienti ogni notte a mezzanotte, come suggerisce del resto anche lo stesso titolo, si riuniscono per raccontarsi delle storie da brividi e soprattutto si fanno la promessa che qualora qualcuno di loro, insomma il primo, colui, meglio il quale, lascerà per primo la terra, quindi toccherà le vette del paradiso, manderà agli altri, diciamo, restanti un segnale dall'aldilà, quindi si parla di paranormale, come si può appunto già preannunciare da questa introduzione che vi ho fatto, una serie che vede come protagonisti appunto dei ragazzi e che va quindi a incontrare magari una fetta di pubblico più giovane, nonostante le tematiche non siano propriamente allegre, per cui ragazzi The Midnight Club non fosse altro che appunto c'è dietro lo zampino di Mike Flanagan che ha realizzato delle ottime produzioni in passato da tenere sicuramente sott'occhio per tutti gli appassionati di horror e non solo. Ci spostiamo su Disney Plus ragazzi perché il 12 ottobre esce Candy, morte in Texas e già dal titolo potete intuire che i toni della serie non sono propriamente allegri, del resto questo è un mese in cui di allegria ce n'è ben poca, come ho detto anche ad inizio video è il mese degli horror, dei thriller, per cui coloro i quali vogliono farsi magari due risate e preferiscono non spaventarsi, magari saltiamo questo mese, ma a parte gli scherzi Candy, morte in Texas, è una serie che trae ispirazione da una storia vera perché la protagonista di questa serie è Jessica Biel che interpreta Candy Montgomery, una casalinga, una moglie americana perfetta, insomma dal profilo quasi perfetto, che però commette un brutale omicidio per nascondere un suo adulterio, un omicidio che lascia ovviamente sballordita l'intera comunità, appunto l'invicinato lì presente perché nessuno si poteva mai aspettare da parte di una persona così tranquilla in apparenza un omicidio del genere. Come vi dicevo questa è una serie tratta da fatti realmente accaduti, per cui se volete approfondire le vicende di Candy Montgomery andate su Wikipedia e a sfamare la vostra fame di curiosità, una serie che se vogliamo può andare un po' in linea anche parzialmente, non del tutto con Dahmer, che abbiamo visto recentemente di cui ho parlato anche su Instagram e con uno short qui su YouTube, naturalmente non parliamo della stessa proporzione di omicidi, ma come diciamo tipologia, come genere, se vi è piaciuto Dahmer, questa Candy morta in Texas potrebbe fare al caso vostro. Un giorno più tardi ragazzi, ritorniamo su Netflix, quindi facciamo un passo indietro, abbiamo l'esordio di The Watcher, quindi il 13 ottobre, segnatevi questa data, questa probabilmente è una delle serie, la serie che sto più aspettando in questo mese perché le premesse sembrano particolarmente interessanti, in questa serie vediamo all'opera la famiglia Brannock che si trasferisce in quella che in teoria dovrebbe essere una casa dei sogni, una casa perfetta nella provincia americana. Fin da subito però, appena dopo il loro trasferimento, la famiglia riceve delle lettere minacciose da parte di uno sconosciuto, delle chiamate, delle lettere, per cui gli avvenimenti iniziano a prendere una piega piuttosto macabra. Anche in questo caso ragazzi, la serie è tratta da dei fatti realmente accaduti, non sono andata ad approfondire bene la situazione in questo caso, però è un'altra serie come nel caso di Candy, tratta da fatti realmente accaduti, quindi a volte la realtà supera la finzione. Una serie dalle premesse sicuramente intriganti, per cui ragazzi, anche questa segnatevela insomma, perché potremmo anche parlarne in seguito qui sul canale, vi ricordo quindi il 13 ottobre The Watcher su Netflix. Un giorno più tardi, quindi il 14, abbiamo di fatto tre serie, il 12, il 13 e il 14, una dietro l'altra, su Apple TV, Apple TV Plus abbiamo il debutto di Shantaram. Per tutti coloro i quali sono stati, diciamo, in una qualche maniera legati al protagonista di Sounds of Anarchy, ovvero Charlie Unnam, questa potrebbe essere una produzione che fa il caso vostro, perché il protagonista di Shantaram è per l'appunto Charlie Unnam. Charlie Unnam in questa serie interpreta Lin Ford, un fuggitivo, che cerca di far perdere le proprie tracce nella brulicante Bombay degli anni Ottanta. E qui, lavorando come medico per la gente più povera, più bisognosa, cerca in una qualche maniera di trovare una possibilità di redenzione per se stesso. Questa serie è tratta dal romanzo di Gregory Roberts, per cui genere diverso da quelli che abbiamo affrontato e da quelli che abbiamo descritto finora, e che potrebbe quindi spezzare un po' il ritmo e rappresentare una novità. Quindi vi ricordo, signori miei, Shantaram il 14 ottobre su Apple TV Plus. Chiudiamo il quintetto di questo mese con una serie in uscita il 21 di ottobre su Amazon Prime Video, quindi abbiamo Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, abbiamo un fritto misto apparecchiato a regola d'arte, ce n'è per tutti i gusti. Su Amazon Prime Video abbiamo il debutto, appunto, il 21 ottobre di Inverso The Peripheral, una produzione, una serie, dalle premesse intriganti, perché la protagonista è Flynn Fisher, una serie, questa scritta dai creatori di Westworld, ed è tratta dal romanzo di William Gibson. Ci parla di una donna che cerca, diciamo, di mettere insieme i pezzi della propria vita con difficoltà fin quando poi non accade un qualcosa di completamente inaspettato, ovvero che cosa accade? Che Flynn Fisher ha la possibilità di vedere nel proprio futuro, e questo avvenimento così inaspettato la porterà poi a prendere tutta una serie di decisioni per evitare che le cose, alcune cose, insomma, che ha visto nel suo futuro possano, diciamo, accadere. Per cui, miei cari, questa è un'altra serie che potrebbe, chissà, regalarci qualche soddisfazione, il 21 ottobre su Amazon Prime Video, quindi Inverso The Peripheral. Detto ciò, abbiamo concluso anche in questo, insomma, in questo mese le cinque serie che vi consiglio. Fatemi sapere quali sono quelle che state aspettando di più, se ci sono delle serie che magari non ho menzionato, che mi sono dimenticato, per cui fatemelo sapere nei commenti, altrimenti di queste che ho menzionato ditemi qual è quella che vi stussica un po' di più. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo a venerdì con il video riguardante Gli Anelli del Potere, quindi la settima puntata degli Anelli del Potere. Un saluto e un abbraccio a tutti quanti da Spazio. Un saluto e un saluto.